musica musica signore e signore buonasera chi vi parla è Claudio Saltarelli vi parla da Cassino e dall'Alta Terra di Lavoro e anche questa sera di venerdì ci teniamo compagnia per parlare di storia storia identitaria, storia insorgente storia regioni Napoli ma come ben sapete noi parliamo anche di storia di quel periodo di tutta la penisola italica quella che va fino al 1860 e oltre e questa sera ci avventureremo a parlare di un personaggio di un territorio molto particolare con una persona che ci viene a trovare spesso ma possiamo considerarlo anche una nostra non soltanto un nostro caro amico ma veramente qualcosa di più però come nostro sogno cerchiamo di farci anticipare da un breve video domani pomeriggio alle 18 nell'auditorium San Marco di Sonnino in occasione dell'inaugurazione della rete sentieristica imprendibile Banda Gasperone Paesaggi della Storia l'associazione Brigante Antonio Gasvarroni presenterà il progetto cinematografico sulla vita del brigante Gasperone direttamente da Palazzo Chigi di Ariccia accompagnato dall'architetto Francesco Petrucci conservatore del museo arriverà il ritratto del brigante eseguito il 23 settembre del 1825 da un ignoto artista francese nella breve detenzione del brigante della sua banda nelle carcere della città la pregevole e rarissima incisione acquerellata resterà esposta per la durata dell'evento l'associazione Brigante Antonio Gasbarroni di Sonnino è nata nel 2014 dalla passione per la montagna e la storia di un gruppo di amici cresciuti del mondo scout protagonista è il capo brigante Antonio Gasbarroni la sua vita, le sue avventure che lo resero celebre in tutto il mondo già nei primi anni dell'Ottocento l'associazione ha già ripristinato il cippo di confine Papalino Borbonico sul Monte Ceraso e successivamente ha inaugurato una targa in memoria del brigante Antonio Gasbarroni oggi l'associazione può vantare la gestione di due rifugi montani una sede del centro storico un proprio archivio con documenti e foto e la capacità di gestire eventi non solo in quota con escursioni accompagnati da una guida ma gli strumenti per fare ricerca storica nel territorio e negli archivi di Stato grazie a tutti bene avete visto questo video fatto a Sonnino da un piccolo documento diciamo un programmino fatto da una televisione locale sulla figura di Antonio Gasbarroni da Sonnino e noi faremo questa trasmissione per chi? perché per capire se effettivamente Gasbarroni può essere considerato un mino come appare in questo video oppure forse una figura un po' diversa io il mio pensiero ce l'ho sicuramente lo capirete durante questa trasmissione ma ci confronteremo col pensiero di un carissimo amico Luciano Bonventre da Pesco Rocchiano nel Cicolano ciao Luciano come stai? ciao buonasera a tutti buonasera a te Claudio e anche grazie insomma per avermi invitato a parlare di questo personaggio un personaggio che possiamo dire che è un mito? sicuramente si tratta di un mito perché già dall'ottocento letterati, artisti, pittori, romanzieri quanti hanno scritto su di lui e quindi tuttora se ne continua a parlare ecco con il video che hai fatto appena vedere con mostre e quindi sicuramente è un mito è un personaggio della storia importante d'Italia e del centro Italia in particolare beh allora subito ti dico che forse possiamo dirlo che è un personaggio letterario ma mito no anche perché i miti tu sai bene che sono gli sconfitti che poi muoiono e diventano da eroi a mito Casbarone non è morto se non di vecchiaia quasi a 90 anni quindi per dire un mito secondo me è una parola un po' grossa forse di un grosso personaggio letterario sì che ha scritto una pagina di storia importante sì ma per diventare mito doveva morire in battaglia quindi questo è questa è la figura nel senso che un personaggio sicuramente che ha sopravvissuto al suo tempo che ha assurto anche però tratti medici insomma in ogni caso beh in quel periodo c'era Massaroni Massaroni è morto combattente è stato l'hanno fatto fuori Casbarone no però ne parleremo durante durante questa trasmissione prima di andare a parlare Casbarone cerchiamo di inquadrare il periodo storico quindi siamo in piena insorgenza anti-Giacobina anche anti-Napoleonica dal 99 fino al 16 tu sai bene che come in tutte le le battaglie guerre di resistenza si faceva affidamento a personaggi anche non certamente dalla reputazione cristallina quindi delinquenti o banditi che cercavano di recuperare la reputazione combattendo per una causa giusta però che cosa succede che molti di questi personaggi molti di questi briganti che da insorgenti da identitari alla fine di qualsiasi guerra molti di questi non abbandonano la macchia e vogliono continuare la loro battaglia andando a stuzzicare e a provocare la reazione degli stati che si erano ricostituiti sia il regno ancora di Napoli il regno di Sicilia sia lo stato Papalino combattevano alla fine le persone che loro stessi avevano assoltato per combattere per cercare di scacciare l'invasore giacobino francese e succede che praticamente diventa una guerra interna e diventa una forma di battaglia contro delle forme delinquenziali questo è il quadro storico e Gasbarone è uno di questi che finito le insorgenze antinapoleoniche tutto fa tranne che tornare a miti consigli e continui a darsi la macchia giusto? ho detto qualcosa di sbagliato Luciano sì no diciamo nel complesso sì in realtà proprio lui Antonio rimase un po' ai margini delle insorgenze antinapoleoniche il fratello era stato divenne insomma si diede alla macchia in quanto renitenta la leva francese questo sì lui in realtà si diede alla macchia come sappiamo perché che uccise il fratello di una donna che avrebbe voluto sposare insomma che si era opposta al fidanzamento e quindi lui l'uccise e poi si diede alla macchia insieme al fratello e insieme ai fratelli Giuliani che erano detti calabresi che erano del regno di Napoli della provincia di Cosenza in particolare che agivano sul confine tra lo stato pontificio e il regno di Napoli nel basso Lazio in funzione antifrancese questo sì loro e che erano in quel momento i capi banda lui in quel momento tra il 1810 e il 1815 Gasparrone era giovanissimo perché aveva insomma 18 anni quando si diede macchia quindi ventenne quindi non era ancora diventato uno dei capi cominciò con il sequestro di un sacerdote e la sua diciamo la sua carriera però rimase un po' ai margini insomma delle insorgenze antinapoleoniche che poi proprio in quegli anni comunque avevano perso anche la loro in parte la loro vitalità che invece era stata molto importante ed efficace negli anni precedenti quando appunto viene restaurato il il potere pontificio e il Papa torna a Roma ci furono vari ditti di insomma notificazioni bandi vari anche per dare l'amnistia a questi briganti quindi si alternavano i bandi in cui venivano amnistiati a quelli in cui si sollecitava la caccia la ricerca e l'organizzazione militare per per intracciarli e catturarli e questo fino al 1818 quando di fatto poi Casbarone si arrese insomma in una prima volta alle autorità pontifice diciamo che il quadro storico della restaurazione senz'altro lui poi divenne un capopanda Luciano diciamo che mi sembra tanto di vedere la gestione dei pentiti che viene fatta in età contemporanea amministrati i pentiti mi sembra proprio una gestione dei pentiti antelitra ma che poi vediamo nella legge pica e poi vediamo nel giorno di oggi sì diciamo che c'è stato questo fatto dell'indulto però bisogna vedere poi le motivazioni erano forse andrebbe un argomento da approfondire se c'era un effettivo coinvolgimento tra virgolette politico di questo brigantaggio dello Stato pontificio durante il decennio francese comunque proseguiamo insomma dopo appunto che si arrese alle autorità pontificio nel 1818 fu mandato in esilio insomma in Romagna dove rimase per due anni insieme anche alla sua famiglia insomma e poi fuggì nel 1820 per tornare nel nello Stato pontificio insomma per tornare in patria a Sonnino e dove si unì appunto all'altra banda che era capitanata da Massaroni e in quel momento c'è stato il sappiamo nel bienio 1820 21 ci furono anche dei contatti con il generale Carrascosa con l'esercito dei Carbonari che stava in qualche modo che voleva contrastare l'avanzata degli austriaci e che diede a Massaroni il comando di un corpo franco che ebbe il suo quartier generale a Monte San Biaggio oggi Monticelli e in questo momento quindi ci furono dei contatti appunto con la politica con i Carbonari con il generale Carrascosa con il regime costituzionale napoletano dopodiché quando venne l'esercito austriaco occupò distrusse il corpo Franco di Massaroni Gasbarroni non era presente perché si era rifugiato fuori Monte San Biaggio e gli stessi austriaci quando li incontrarono gli diede un salvacondotto salvacondotto che lui quattro anni dopo quest'episodio nel 1825 ancora rivendicava e mostrava ad alcune alle autorità che poi nel 1825 lo arrestarono alle quali si arrese una seconda volta e in questa volta in forma definitiva in questo in questo quindicennio quindi dal 1810 fino al 1825 si alternano quindi arrese e fughe e però nel mezzo c'è una lunga sequela di delitti di sequestri di scorribande sul confine tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie e in particolare nel quadriennio dal 1821 al 1825 dopo la morte di Massaroni dopo anche l'arresta e la morte pure dei due fratelli Giuliani insomma e anche del suo stesso fratello Gasparroni diventa il capobanda per eccellenza di queste incursioni e appunto è interessante vedere come viene raccontata questa diciamo epopea brigantesca come è stata vista da diversi da diversi personaggi da diversi intellettuali da diversi uomini di governo prima di iniziare questo Gasparrone non dimentichiamo che ci fu San Gaspare del Bufalo che evitò l'estinzione distruzione di Sonnino perché a un certo punto non riuscirono più era diventato il quartier generale del brigantaggio delinquenziale di quel periodo praticamente fu quell'opera di San Gaspare che evitò la distruzione di Sonnino che era era quasi imminente questo è molto importante ricordarlo poi e sì infatti San Gaspare no ma sai che cos'è che una volta poi a Sonnino adesso fanno grandi festeggiamenti per per Gasparrone però io che poi vengo dal regno per me il brigantaggio insorgente è una forma di di lotta politica di lotta contro l'invasore quindi non è che non è che lo considero diciamo lo considero l'apposto di come lo considerano loro calcolo che lì è stato pure per molto tempo anche il quartier generale di Fra Diavolo ma non lo vogliono ricordare questo perché lì invece vogliono ricordare Gasparrone perché è una figura diciamo che è diventata oleografica quasi folcloristica che fa comodo a tanti per parlare il mito del brigantaggio ma è anche per ridicolizzare un fenomeno che è stato veramente importante dal 99 fino al 1870 infatti c'è un episodio e poi ti lascio tu sai che Sonnino è anche ha dato i Natalia del Sant'Altobelli spilla il campione del conto del 1882 un giorno stavo a Sonnino perché io ci lavoro sono molto legato a Sonnino perché c'ho molte persone per lavoro che faccio che incontro quasi ogni settimana ci passo e incontrai incrociaio Alessandro Altobelli lui non mi conosce giustamente io lo salutai lui con molta gentilezza mi salutò e gli dissi Sonnino il paese di Gasbarrone lui sai cosa mi rispose no sì ma è soprattutto il paese del cardinale Antonelli e mi fece riflettere molto questo fatto e questo pensiero di di Altobelli è molto diffuso nella città di Sonnino questo episodio volevo dirtelo e prego puoi continuare nella tua nella tua di anni no vabbè è importante anche questo per sottolineare come nella memoria locale insomma sia di Sonnino che le persone di cui hai parlato tu e insomma invece che Altobelli che vuole preferisce sottolineare che di essere compatriota del cardinale Antonelli che è stato un uomo di stato insomma comunque possiamo iniziare a per rispondere alla domanda che è il titolo di questa trasmissione anche per lasciamo possiamo fare una carrellata sulle risposte che hanno dato appunto diverse persone o diversi e e lasciare insomma agli ascoltatori anche la loro risposta allora iniziamo con con il con il primo personaggio contemporaneo di 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 Gasbarone che lo che lo tratta insomma che era un suo coetaneo il primo il primo artista che è Bartolomeo Pinelli Bartolomeo Pinelli intuisce fin dai primi anni che diciamo il famoso incisore romano intuisce fin dai primi anni il fascino che aveva la figura dei briganti nei confronti dei viaggiatori stranieri e comincia a disegnare moltissime tavole che riguardano i briganti tra l'altro una vita delle gesta del del brigante Massaroni ma anche diverse riguardanti proprio Gasbarone e quindi il primo è un suo coetaneo che intuisce appunto il fatto che chiaramente a lui c'era anche un motivo commerciale dietro però ne intuisce il fascino appunto che aveva soprattutto all'estero in Francia e in Inghilterra questa figura di Gasbarone e delle altre come lui e in cosa consisteva questo fascino? Qui bisogna andare invece su quello che su due grandi romanzieri francesi che hanno parlato direttamente o indirettamente di Gasbarone che sono Stendhal e Diumà allora Stendhal disse la famosa frase che tutti quanti molti di coloro che arrivavano nello Stato Pontificio a Civitavecchia andavano a vedere prima Gasbarone che insomma altri personaggi importanti che si trovavano nello Stato Pontificio quando Gasbarone era rinchiuso nelle carriere di Civitavecchia appunto e Diumà praticamente si spiega anche Diumà stesso andò a Civitavecchia a incontrare di persona Gasbarone e prende dedica una novella a un brigante ispirato alla figura di Gasbarone nel Conte di Monte Cristo il personaggio di Luigi Vampa che si trova nel Conte di Monte Cristo è diciamo una rivisitazione letteraria di Gasbarone appunto raccontata da Alessandro Diumà e come viene non solo loro poi ci sono tanti ancora altri letterari francesi che ne hanno scritto che ne trattano persino un personaggio del rigoletto del nostro Giuseppe Verdi è ispirato da Gasbarone e cosa c'è dietro però questo fascino che esercitavano queste figure e Gasbarone in testa sui viaggiatori stranieri e sui romanzieri francesi e su altri intellettuali inglesi che venivano a fare il famoso insomma tour d'Italy per i Grand Tour in quegli anni era il fatto che veniva assurto come una figura romantica contro il dispotismo contro il dispotismo e quindi queste figure riassumevano un po' gli ideali in parte dell'uomo forte legato alla natura quindi che chiaramente conservava in parte gli aspetti brutali però allo stesso tempo cavalleresco fedele e disinteressato e che in parte dava ai poveri e togliendo ai ricchi diciamo una sorta di Robin Hood ottocentesco dello stato pontificio ma non solo diciamo non pro Robin Hood diciamo appunto l'ideale di un uomo forte brutale che però conservava legato alla natura che conservava dei tratti cavallereschi quindi incarnava un ideale romantico che in quegli anni andava di moda per questo motivo Gasbarone molto prima alcuni autori che l'hanno trattato recente forse si sono ingannati molto prima delle memorie poi trascritte da Pietro Masi diventa famoso e conosciuto in in Europa perché di fatto questo in Europa non solo in Italia anzi forse più all'estero che in Italia diciamo assume questi tratti c'è anche i famosi quadri di Horace Vernet del pittore francese sono anche questi ispirati certamente a leggessa di Gasbarone quindi la confessione di un brigante il combattimento tra i dragoni pontifici e i briganti che oggi molti libri molte mostre insomma se uno cerca vengono usati per identificare quel periodo storico quindi ecco perché in parte Gasbarone può essere assurto una figura mitica perché effettivamente ha ispirato romanziere e non è una cosa di tutti i giorni insomma ma io direi a questo punto una figura romantica il romanticismo che è esplosa il mito è un'altra cosa cioè se devo pensare a Fra Diavolo che rifiutò di conservare il suo titolo da ufficiale da colonnello il suo titolo di Duca appena preso non tratendo la parola data e si fece impiccare a Piazza Mercata a 35 anni con moglie e figli sotto utrabucco come dice il nostro Raimondo se permetti il mito è un'altra cosa la figura romantica ha ispirato tantissime produzioni letterarie va benissimo però lui comunque ha saputo io ho fatto degli studi particolari lui ha saputo giocare molto bene il suo ruolo la sua storia non è così cristallina romantica sì però il mito è una cosa diversa permettimi se esisto su questa cosa concordiamo sulla cosa nell'ottocento assume i tratti di una figura romantica questo non solo per questi grandi romanzieri francesi o per i viaggiatori inglesi o per un artista come Bartolomeo Pinelli ed anche il figlio Achille ma anche nella poesia popolare c'è la tarantella di Gasbaroni che veniva che diciamo cantata nei giorni di fiera intorno al momento dell'unità d'Italia del 1858 che racconta le gesta sempre di Gasbaroni che all'epoca lo chiamavano così poi adesso nella lezione moderna è Gasbarone del cognome e appunto anche in quel caso si sottolinea il fatto che si fosse data la macchia con questo delitto passionale e anche il fatto del delitto passionale nella mentalità dell'epoca era il primo elemento romantico che veniva attribuito al personaggio poi questo è chiaro che nella letteratura nell'immaginario dell'epoca poi la realtà storica come per tanti personaggi è un'altra insomma però nell'immaginario di quel momento è così anche se c'è da dire un fatto che le incisioni di Pinelli raccontano le gesta di Gasbarone in modo fedele a me io quando ho letto la biografia di Pietro Masi nell'edizione italiana diciamo che un po' stupisce il fatto che due persone che non si fossero conosciute cioè Pinelli forse ha visto di persona il brigante Gasbarone ad Ariccia nel 1825 infatti a Palazzo Chigi ad Ariccia c'è un ritratto davvero di Gasbarone però quando dopo al momento del suo arresto proprio quando lo stavano trasportando a Civitavecchia ma che forse potrebbe essere di parte che molto probabilmente è stato fatto da Bartolomeo Pinelli però quello che stupisce è che quando nelle stampe le stampe sono veramente immediatamente collegabili a episodi reali accaduti alla banda Gasbaroni quindi assalta le dirigenze rapimenti di donne la donna la nobile donna della carrozza insomma cioè sono tutti episodi poi realmente che poi a distanza di 40 anni si ritrovano nella biografia nella biografia di Pietro Masi e qui arriviamo e quindi appunto abbiamo detto grandi romanzieri artisti dell'Ottocento la poesia popolare con appunto questa tarantella di metà del XIX secolo e poi abbiamo anche invece la 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 biografia la biografia che fu che come nasce la biografia famosa di Pietro Masi che viene pubblicata in Francia nel 1867 in pratica gli ufficiali francesi Pietro Masi era stato un segretario di Gasbarone e in carcere si mise a scrivere le sue memorie a trascrivere le sue memorie e diversi ufficiali francesi acquistavano questi fascicoletti che scrive come se fossero dei fumetti insomma o dei romanzi dei fogliuton antelitteram acquistavano questi fascicoletti che scrive Pietro Masi lì a Civitavecchia e poi a Civitacastellara un ufficiale francese ne viene a conoscenza e ha l'idea di tradurli in francese perché Pietro Masi l'aveva scritti naturalmente in italiano li traduce in francese in maniera organica e ripubblica e anche questi nel 1867 a 40 anni come abbiamo detto dalle gessa di Gasbarone e dalle incisioni di Pinelli diventano molto diffuse in Francia però perché in Italia queste memorie di Pietro Masi furono pubblicate solamente dopo la seconda guerra mondiale negli anni 50 quindi diciamo che l'Italia anche se le gessa di Gasbarone sono state oggetto di pubblicazioni di diversi libri delle case di Dirice Salani dalla fine dell'Ottocento in poi e quindi però se si leggono i commenti se si legge per intero la biografia di Pietro Masi ci si accorge che già in questa viene sfrondata degli elementi diciamo romantici o mitici perché è semplicemente una cronaca sono dei commentari di quello che lui ha fatto dei rapimenti delle scorribande degli accordi oppure delle fughe rispetto all'autorità pontifice e alla fine confrontandole con la realtà in massima parte possono essere anche ritenute attendibili è chiaro che è il punto di vista di Pietro Masi e del brigante Gasbarone però comunque sono piuttosto vicino al vero quindi questo libro non mitizza affatto il brigante ma racconta effettivamente quello come una cronaca di Cesare veramente quello che lui ha fatto l'altra cosa che volevo sottolineare è che in questo libro si trovano due cose che anche ci fanno vedere due punti di vista sul brigante Gasbarone molto velocemente il primo quello che l'ufficiale francese che ha tradotto in francese il manoscritto di Pietro Masi come lui che conobbe ed ebbe un paio di collochi con Gasbarone in carcere vide questo brigante beh lo vede come un capo perché praticamente notò l'ascendente che ancora aveva sui suoi gregari che erano lì in carcere con lui il rapporto di Cameradesco che aveva con gli stessi e la figura e lo descrive senza esagerare però lo descrive con una figura fiera insomma e comunque scusami comunque Gasbarone parliamo di una di una personalità molto forte un carisma incredibile quindi parliamo comunque di un personaggio che ha scritto storie importanti questo poi come dici tu Pietro Masi l'ha narrato senza fare una scusate il gioco di parole e l'apologetica narrazione del personaggio ma di quello che era che comunque indubbiamente aveva aveva una forza e un carisma enorme perché sennò non potevi ispirare tantissimi letterati per quello era una moda questo libro infatti questo ufficiale francese lo descrive così e poi se uno ci fa a casa è importante pure il primo capitolo della biografia di Pietro Masi dove descrive veramente come vivevano i briganti e il regolamento quasi di disciplina che regolava la loro condotta quindi è appunto un regolamento di disciplina che poteva essere applicato anche grazie al carisma e all'autorità di un capo riconosciuto come tale dagli altri briganti insomma anche con una forza fisica non indifferente perché se uno vede altro adesso noi andiamo per cammini sentieri c'è tutto il turismo lento che va di moda ma se ragioniamo sui chilometri percorsi a piedi da Casbarone e dalla sua banda impressione insomma perché andava dal Martirreno da Gaeta da Monte San Viaggio da Nettuno a Cisterna a Priverno per poi arrivare ai Monti Aurunci Monti Lepini alla Valle di Roveto al Cicolano a Leonessa ad Antrotoco all'altipiano delle Cinque Miglia più giù fino a Sulmona insomma veramente si spostavano a piedi per ente tutto l'anno insomma quindi una forza fisica tra l'altro è morta a 90 anni che è un'età ragguardevole per quei tempi non indifferente doveva avere queste riflessioni le abbiamo fatte con altre personaggi da cui con altre persone che abbiamo intervistato effettivamente per fare quello che loro facevano doveva avere una capeciana forza incredibile perché erano capaci in una notte di spostarsi per chilometri e chilometri in sentieri tortuosi e portavano le cioce ai piedi o gli scarpitti non è che portavano le scarpe da trekking erano veramente incredibili per quello che loro facevano effettivamente sì ma poi sai la legge di natura ti imponeva a chi faceva parte delle bande di scegliere sceglievano loro chi doveva essere il capo come si faceva una volta no era sempre era sempre l'esercito che sceglieva l'imperatore e il re no qualsiasi cosa accadeva questo carattere allora sempre nella biografia di Pietro Masi c'è un passaggio che permette di vedere anche in parte come Gasbarone considerava se stesso sulla considerazione che aveva di se stesso sempre raccoltata dall'ufficiale francese e in questo passaggio che si trova nell'introduzione praticamente Gasbarone paragona se stesso alle gesta di Domenico Fuoco dei briganti che agivano negli anni successivi all'Unità d'Italia insomma più o meno nello stesso territorio lui era dello Stato Pontificio Domenico Fuoco come sappiamo era insomma del Regno di Napoli era roba si paragona e si paragona nel senso valutando l'operato di Domenico Fuoco e dicendo che insomma benché fossero bande di numero più consistente quello che faceva lui insomma non era paragonabile perché era molto più in gamba era stato molto più in gamba quindi una grande considerazione di se stesso questo era quello certamente questo buio di gabbile però insomma Domenico Fuoco è stato un altro che a parte lui si faceva chiamare Fra Diavolo perché aveva il mio viveva nel medio di Fra Diavolo è stato un altro che non si è reso ed è morto difendendo la propria terra la propria patria certo no su questo siamo d'accordissimo di un sotto ufficiale ed è un corpo speciale dell'esercito del regno di Sicilia non stiamo parlando di una l'abbiamo citato per dire quello che pensava Casbarone di se stesso eh certo sì 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 paragone con questo brigante che cioè con questo poi insorgente più che brigante che che nel 1861 perché le memorie di Pietro Masi dovrebbero essere di quell'anno già cominciava ad essere conosciuto ma come potrebbero essere pure agli altri briganti Chiavone insomma gli altri insomma si pergono al brigantaggio postunitario eh all'insorgenze postunitarie del regno di Napoli con diciamo lotando se stesso insomma questo facendo sottolineando eh la la le proprie capacità e quindi abbiamo un altro punto di vista su di lui e poi abbiamo il punto di vista che viene alla luce eh ai rapporti delle autorità e delle popolazioni che sono quelle che mi sono trovato a studiare in prima persona con un libro che abbiamo pubblicato come Comune di Pesco Rocchiano i luoghi di risorgimento nel nel Comune di Pesco Rocchiano dove abbiamo esaminato i rapporti eh del periodo della restaurazione dei sindaci e dei comandanti della Guardia Civica del nostro territorio e dove è venuta alla luce che eh sia la banda Vittori nel 1820 che quella di Gasbargoni dal 1821 al 1824 ha costantemente eh frequentato il territorio di del nostro Comune e e del Cicolano eh in particolare e questo è stato appunto oggetto di una pubblicazione ed è interessante vedere come vengono come vengono come i sindaci e le autorità locali di Pesco Rocchiano eh indicavano queste stiamo questi questo gruppo brigantesco come indicavano come assassini come masnadieri come malfattori e come si fossero anche organizzati per 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 non farli avvicinare alle popolazioni e perché nel nostro territorio sequestrarono la banda Vittori sequestrò un possidente locale Antonio Gregori a Valdevari e gli tagliò un orecchio e chiese il riscatto questo nel 1820 quando ancora Gasbarrone non era tornato dall'esilio diciamo dalla reclusione dalla prima reclusione e poi nel 1821 e sequestrarono due sacerdoti proprio del nostro territorio e sempre a Valdevari e chiesero il riscatto e questo le forze locali capitanane da Giovanni Gregori che era stato lui sì un insurgente in prima linea che era il comandante della guardia civica che è stato un insurgente un capo insurgente del 1799 uno di quelli citati che fece parte del giuramento di Roio come capo massa e lui fu appunto Antonio Gregori era il fratello di Giovanni la persona che era stata sequestrata e il comandante della prima sindaca e poi comandante della guardia civica che nel territorio di Pescolochiano contrastò Gasbarrone fu proprio lui quindi ecco qua che venne fuori che un capo insurgente diciamo certificato che contrastava sul territorio Gasbarrone ritenendolo nei suoi rapporti un assassino e niente di più è un malfattore questo diciamo stando ai documenti e quindi le autorità locali e anche la popolazione perché poi sul posto la guardia civica era composta dai capi famiglia anche di diverse estrazioni sociali insomma dalle famiglie che stavano che erano piccoli proprietari terrieri fino a quelli che insomma erano quasi braccianti che che dietro la caccia specialmente appunto a Valdevarri insomma nella zona di Valdevarri al brigante Gasbarrone che appunto per quattro anni per quattro estati di seguito venne nella zona e c'era una gendarmeria un posto di guardia fisso nel nel paese di Leofreni con turni di guardia e e insomma e pattugliamenti della zona per impedire appunto che si avvicinassero questo è un altro aspetto cioè di come le autorità locali e le popolazioni stando ai documenti d'archivio non solo del Cicolano ma anche del resto della linea di frontiera e anche l'autorità pontifice con tutto gli intendenti della provincia dell'Aquila i delegati pontifici dello Stato Pontificio videro la banda Gasbarroni come una come dei banditi infatti il termine che veniva usato era quello di essere i forbando anche in tanti come come i i forbando i for i forbando forbando i forbando comunque Luciano c'è da dire una cosa scusa e ti interrompo molto importante la tua testimonianza perché noi parliamo del tuo territorio che si è sempre contraddistinto per la fedeltà alla corona napoletana ed è sempre stato in prima linea nelle guerre insorgenti sia nel triennio francese nel triennio 96-99 e sia poi in quello dell'invasione francese successiva ed è quindi di un territorio che era abituato a combattere gli invasori a combattere un nemico da punto di vista politico sia per le masse che aveva messo in piedi ma sia come consenso popolare se invece un personaggio come Casbarone non aveva questo tipo di appeal non aveva questo tipo di attrattiva verso sia le istituzioni e sia verso la popolazione vuol dire che effettivamente un territorio maturo è così forgiato come il tuo che lo ha considerato un bandito questa è una testimonianza importante o mi sbaglio ma questo è in equivocabile non solo Giovanni Gregori che è appunto insomma era stato come ripeto un protagonista del 1799 e lui fu ancora appunto nella caccia a Gasbarone ma anche il banone Ramon Dantonini che fu un altro protagonista del 1799 che organizzò le masse del Cicolano contro i francesi per mesi e che ne sbarrò appunto la venuta a Pescorocchiane in quegli anni anche lui fu che in quegli anni era capitano della della milizia fu uno dei principali collaboratori locali del commissario del re inviato per distruggere la banda Gasbarone insomma questo per rimanere a Cicolano poi se passiamo all'intera provincia dell'Aquila senz'altro si potrebbero fare anche altri esempi del genere per cui evidentemente era sentito come una minaccia era sentito come una minaccia mentre non erano mai state sentite come una minaccia ma anche anzi come i difensori le masse appunto degli insorgenti che cioè le stesse popolazioni che avevano dato vita che erano stati gli insorgenti di 22 anni sono quelli che hanno dato la caccia a Gasbarone questo è il fatto ma lo stesso stato il regno delle due Sicilie dava una caccia spietata a questi personaggi quindi questo come è fatto poi le riflessioni si possono fare però insomma le opinioni per carità dibattito i fatti ognuno c'è le sue opinioni però sai come noi scriviamo sempre l'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità e come dice Cretino e quindi i fatti sono questi certamente per esempio un altro come accennava prima Massaroni Massaroni volevano ammazzarlo a tutti i costi si sono riusciti questa voglia di ammazzare Gasbarone non c'era quando un potere è costituito non vuole colpire a morte non vuole eliminare definitivamente diciamo tra virgolette una figura delinquenziale un motivo ci deve essere per forza e penso ai giorni nostri invece Massaroni avevano tutti voglia di era incontrollabile perché forse era un po' era più spingata ideali importanti poi arrivò pure al fanatismo addirittura Massaroni a un certo punto cominciava a celebrare a quel di fondi cominciava a celebrare il matrimonio a posto del prete e tutti andavano da lui c'è un periodo che era racconta nella cronaca dell'epoca che praticamente fecero lui ha celebrato anche dei matrimoni e quindi lui Massaroni davano la caccia per poterlo uccidere Casparrone no io penso che la ricerca in questo momento ho detto la mia opinione però io posso aggiungere questo che secondo me sia la ricerca documentaria che il dibattito stereografico si potrebbe accendere proprio su questo tema che è costo adesso nel biennio 1818 1820 lui viene recluso ma di fatto è un esilio dorato perché comunque era pensionato dello Stato Pontificio cioè una persona che comunque già aveva ucciso e già aveva e già aveva e quindi non è che lo mettono non è che lo condanna lui stava ecco la moglie noi non stavano in carcere era un esilio dorato gli avevano mandato da un'altra parte però quindi per quale motivo però questo questo riguardo nei confronti sai ci fu una trattativa qui fu protagonista l'intendenza di Valle Corsa dei esponenti ci fu loro ci fu una trattativa ci fu la resa guarda purtroppo è stato scritto un bellissimo poi ti farò avere questa copia che la devo masterizzare scritta nel 1975 da uno storico di Valle Corsa qui ci fu una trattativa praticamente lo Stato scese a patti con molti di questi briganti che non si arrendevano dopo le insorgenze antinapoleoniche in cambio di questi esili dorati però poi questi dice che praticamente quando stavano lo stesso quando stavano in esilio pure con le molli la loro spirito non riusciva ad acquedarsi molte volte si annoiamano addirittura facevano anche delle operazioni non brillanti dove loro venivano ospitati perché si annoiavano soffrivano di noia forse la loro verve non riusciva a placarsi e quindi poi ritornavano ecco perché poi venivano nel cicolano questo aspetto brigantesco di questo aspetto storico andrebbe approfondito come dici tu lasciamo troppo spazio alla fantasia romantica secondo me invece io ti devo fare avere questo libro purtroppo questo autore ancora esiste è vivo però non gode di ottima salute e non ha voluto rilasciarmi un'intervista però è un libro molto molto importante ma minuzioso con ricerche ed archivi incredibili scritto nel 1975 pensato beh diciamo che sarebbe da centrare anche un dibattito su questo insomma magari diciamo di fare le ipotesi comunque continuiamo a vedere anche come è stato come è stato visto considerato come altri hanno visto la figura di Gasparrone abbiamo detto l'autorità le popolazioni e poi ci sono due avvocati in un libro questi sono tratte questi giudizi sono tratti da un libro che è recentemente scritto Fulvio d'amore insomma sul brigante Gasparrone l'avvocato Luigi Pianciani che lo definisce Gasparrone è un ladro di stata pubblica quindi si riferisce al brigantano insomma al brigantaggio endemico del centro sud Italia e lo insomma e lo definisce in pratica un bandito mentre invece c'è un altro avvocato sempre contemporaneo di Gasparrone che nel 1822 è l'avvocato Giuseppe Fiori che condivide cioè che anticipa il giudizio dell'ufficiale francese di cui parlavamo prima perché ne sottolinea le doti di capo e di organizzatore del gruppo brigantesco e quindi viene fuori un'altra volta la insomma le doti di cui comunque dovevano doveva avere Gasparrone infatti scrive questo avvocato non accade peraltro dappertutto non in ogni tempo che gli uomini si congreghi di noi si riuniscono e si accordino per battere quella carriera delettuosa cioè vuol dire che insomma aveva anche delle capacità di trascinatore Gasparroni quindi questo dunque quindi da una parte alcune persone che lo vedono come un capo mentre invece altri che lo vedono sia l'autorità locale che le popolazioni che l'altra avvocato fianciani di cui abbiamo parlato come un bandito tu cur insomma e poi c'è la storiografia che una per tutti quella che chiaramente non riferendosi strettamente a Gasparroni ma al banditismo sociale in genere ricordiamo quella dello storico Osborne che in sintesi definisce fenomeni come quello di Gasparroni delle forme primitive di protesta sociale e questo è un altro spunto nel senso che Gasparroni in effetti si oppone alle forme di potere costituito in forma privitiva questo da una parte è vero ora se sia una protesta sociale questo bisogna insomma va beh Luciano tu sai bene che per una certa ideologia ci mettono sempre protesta sociale sociale su questo la pietra d'inciampo nel suo caso è questa delle altre ricerche hanno portato alla luce che Gasparroni che la famiglia di Gasparroni non era una famiglia di semplici baccari cioè loro erano una famiglia di possidenti locali no ma non erano morti di famo dei possidenti locali erano benestanti Gasparroni erano bene per l'epoca erano del benestanti del benestanti infatti e quindi e quindi in questo caso bisogna vedere fino a che punto protesta sociale fatta da benestanti stessi insomma che aggrediva probabilmente persone del suo stesso cedo però però chiaramente poi riferendosi c'è da dire che comunque tutta l'Europa perché noi parliamo sempre della seconda guerra mondiale parliamo sempre quello che ha fatto Hitler Mussolini e tutto il resto ma noi non dobbiamo dimenticare che tutta l'Europa dopo l'epopea di Napoleone era nel deserto più assoluto c'era un'anarchia terribile in tutta Europa quindi c'era confusione totale veramente non aveva lasciato nemmeno un filo d'erba Napoleone c'era una miseria ovunque e soprattutto un'anarchia da tutti i sottipunti di vista perché poi Napoleone è stato devastante nella sua opera questo non dimentichiamo il post napoleonico fu terribile per tutti e forse chi lo ha superato meglio di tutti è stato Ferdinando II di Borbone con le sue politiche economiche e sociali veramente di primissimo livello mai fatte prima e nemmeno dopo quindi c'è anche da dire questo ma poi può darsi questo è sempre il mio pensiero può darsi pure il fatto una persona che poi rimane affascinata dal proprio ruolo si sente leader in questa anarchia infatti ti ripeto lui non riusciva a staccarsi da questo suo modo superante nella vita quotidiana non è semplice per un capo della sua portata che lo era fare la vita normale forse l'ha fatto in carcere alla fine della sua vita beh è stato in carcere non lo so perché anche questa è un'altra considerazione Nias Barrone è stato in carcere aveva 32 anni nel 1825 era giovane ancora e poi è vissuto in carcere in pratica è stato rilasciato nel 1871 all'indomani di Porta Pia quindi ha fatto più di 40 anni di carcere ma quando è andato in carcere a Civitavecchia aveva 32 anni era giovane ancora eh ho capito però guarda caso viene liberato con l'unità d'Italia con l'unità d'Italia sì certo ma infatti è quello che abbiamo detto prima bisogna studiare ancora cioè se questa definizione di Osborne forme preventive di protesta sociale oppure se c'era una forma di colleghe se veniva se erano persone in qualche modo usate o strumentalizzate dai poteri politici di turno o se veramente era un un bandito di natura e basta certo qui abbiamo semplicemente raccontato come come nel tempo e nello spazio l'anno è stato è stata letta dalla figura di Gasbarone insomma sono quelle che abbiamo detto figura romantica pericolo pubblico ecco riassumendo figura romantica pericolo pubblico bandito o uomo che lotta contro il dispotismo brigante che lotta contro il dispotismo e contro i seclusi queste sono le possibili chiavi di lettura oppure anche un uomo strumentalizzato dal potere politico perché anche questo luciano c'è da dire questo c'è da dire questo luciano non dobbiamo dimenticare che Gasbarone ha due elementi importanti primo non è stato ammazzato è stato venuto in carcere quindi lasciato in vita secondo è stato liberato con l'unità d'italia quindi non sappiamo che cosa c'è sotto si può sospettare forse aveva sottolineva sotto ricatto qualche personaggio importante dell'epoca non lo sappiamo certamente lui non è morto come tanti altri come lui di quel periodo ed è stato liberato immediatamente con l'unità d'italia una sorte simile alla sua che non è morto però naturalmente di uno spessore completamente diverso che aveva creato un esercito dal nulla che però anche lui non è morto è morto in carcere è Carmine Crocco quindi forse questi due personaggi hanno hanno in comune una cosa che hanno combattuto più che altro la loro guerra la loro battaglia si di fatto alla fine non muore in carcere ma addirittura va a vivere esce dal carcere e va a vivere a Trastevere Gasparrone e poi viene per quando veramente ormai era in età semile insomma viene va a vivere gli ultimi anni in un in un istituto religioso per dove veniva assistito insomma dunque adesso abbiamo detto tutte le diverse opinioni arriviamo a un'altra che magari questa è l'unica che sicuramente sappiamo che non si può condividere però la citiamo apposta per sottolineare il fatto che non è da condividere che è quella di Cesare Lombroso che praticamente si fece dare il si fece dare il cranio di Antonio Gasparrone per studiarne i tratti somatici e in degli articoli pubblicati nel 1883 lo descrisse disse affermò ecco che Antonio Gasparrone porge il vero tipo del delinquente nato ecco questa opinione diciamo così basata appunto sulla sulla teoria lombrosiana di stampo razzista ma sai non abbiamo fatto due è l'unica che sicuramente non può essere condivisa abbiamo fatto due trasmissioni su Lombroso una con Domenica Nantone è di recentissima con il professor Gangemi in cui praticamente Cesare Gasparrone c'è Lombroso stiamo parlando di un personaggio che forse ha fatto più danni nell'unità d'Italia che altri eroi della patria perché ancora oggi noi andiamo in giro per il mondo con questo mandello lombrosiano che dobbiamo a tutti i costi toglierci facendo capire i nostri giochi soprattutto che siamo noi viviamo sulle spalle di un gigante che è la civiltà napolitana non certamente con le teorie di Cesare Lombroso e quindi Cesare Lombroso un personaggio veramente con molti aspetti squallico addirittura c'è un museo a lui dedicato gli stessi suoi colleghi scienziati come ci ha detto sia da Nantone che Gangemi lo hanno deriso lo hanno proprio dicendo addirittura il suo amico fratello però purtroppo Cesare Lombroso è presente ancora nella vita quotidiana di noi napolitani e ne stiamo pagando ancora le conseguenze gli amici ascoltatori per completezza di informazione appunto diciamo che Gasbarone uscì dal carcere nell'agosto del 1871 appunto dopo Portapia è visto un periodo l'anno dopo è visto un periodo a Trastevere e poi fu trasferito nella via casa degli incurabili di Abbiate Grasso diciamo che era amministrata dalla congregazione di carità di Milano e appunto fu lì che Cesare Lombroso chiese il suo teschio e il suo fucile e i suoi abiti insomma a questo a questo a questo istituto diciamo a questa via casa e e allora e qui appunto abbiamo parlato di Cesare Lombroso ora veniamo appunto alla memoria di Gasbarone attuale allora in primo luogo ci siamo noi che ne abbiamo dedicato questa trasmissione questa sera le pubblicazioni su Gasbarone e su quel periodo storico sono frequenti e sono insomma numericamente rilevanti insomma la bibliografia è consistente insomma sul sul suo sul suo operato e e poi proprio recentemente lo scorso anno ad Aliccia c'è stata una 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 mostra su di lui appunto sul ritratto che c'è partendo prendendo spunto da ritratto che c'è a Palazzo Chigi Gianni Rodari per rimanere insomma all'Italia del dopoguerra lo cita nel nella grammatica della fantasia in un suo scritto quindi insomma è un personaggio che ancora suscita interesse e e che e del quale vale la pena ed è giusto e con quale vale la pena parlarne ed è giusto confrontarsi insomma no per carità assolutamente se no non stavamo qui a parlarne ma poi soprattutto alla vulgata dominante la storica via ufficiale fa comodo concentrarsi su personaggi come Gas Barrone per non cercare di andare a approfondire i temi dei veri insorgenti infatti non si non ha lo stesso cioè come può essere fra diavolo Domenico Fuoco Carmine Crocco anche se ripeto non è proprio come questi altri e ce ne sono tanti tanti altri ancora oppure dei due illustri antenati che hanno lasciato la vita in quel discurgolo per per poter difendere il suolo patrio come nel 99 perché poi parlare di Gas Barrone vuol dire buttarti su un binario morto però è un personaggio che secondo me merita attenzione io posso dirti questo che quando vado spesso a lavorare a domicilio a Sonnino mi capita spesso di trovare case soprattutto in campagna dove mi fanno vedere che c'erano le gallerie che loro antenati interne alla casa che costruivano per quando arrivavano per difendersi dai briganti che andavano a saccheggiare proprio tantissime case a Sonnino quelle un po' più gedilizia avevano proprio costruito che adesso sono case normali di campagna che erano trasformate in cantine le specie di cunicoli abbastanza profondi complicati da raggiungere dove i loro antenati mi raccontano si rifugiavano quando arrivavano i briganti a saccheggiare delinquenti a saccheggiare non è un caso che se non era pesa in gas per il bufalo del bufalo Sonnino l'avrebbero rasa al suolo per questo motivo la chiamavano la brigantopoli però allora che possiamo dire per conclusione come lo dobbiamo considerare gas barrone un vero e proprio personaggio romantico o qualcosa di più un delinquente come lo vogliamo considerare io diciamo la risposta la lasciamo agli ascoltatori però il personaggio romantico lo è stato non per nostra scelta ma perché lo è ancora per lo meno Pinelli e Diumace l'hanno fatto diventare questo è sicuro perché insomma voglio dire un personaggio del conte di Montecristo è basato su di lui se poi qui la domanda è quella che ci siamo fatti prima se è stato a parte le considerazioni senza senso di Lombroso se è stato un bandito o se appunto è stato anche un insorgente o se è stato un uomo che insomma viveva nel suo tempo ricordiamo anche che era un tempo dove l'attitudine alla violenza effettivamente era diffusa insomma se pensiamo ma fino a pochi dici anni fa fino agli anni sessanta era diffusissimo inizio anni settanta sì cioè accoltellamenti delitti passionali insomma erano all'ordine del giorno non è che in tutta Italia poi non è che in tutta Europa in tutta Europa appunto quindi insomma non però bisogna vedere se è stato se io devo dare il mio giudizio diciamo forse come insorgente politico non lo so perlomeno lui personalmente forse non ce lo vedo forse più il fratello il fratello beh il fratello è stato renitente alla leva insomma quindi questo quella era disobbedienza civile quindi era disobbedienza era un insorgente tantissimi sono tanti quindi lui sicuramente è un capo un capobanda un capobanda che con dodi eccezionali perché insomma questo è sicuro che forse e su questo appunto come abbiamo detto bisognerebbe ampliare la ricerca ha saputo muoversi nelle maglie del potere è bravo ma appunto mi viene in mente tantissimi personaggi attuali del pentitismo attuale gente che si è sempre saputo muovere bene io guarda un'ultima domanda c'è un episodio che un suo episodio una sua gesta in cui ci fa pensare che poteva essere forse un insorgente a me non risulta a te? no no perché no perché insomma lui appena uccide questa il fratello di questa ragazza poi il primo atto che compie è il rapimento di un sacerdote cioè non è che va a combattere i francesi insomma non ha mai combattuto io non sono a conoscenza di scontri con truppe francesi quindi lui è un capobanda non un capomassa eh sì sì questo è quello che credo che andrebbero qui approfondite le figure che forse sono state sono state diciamo sono rimaste eh sullo sfondo dei fratelli Giuliani cioè i due calabresi che operavano nel Basso Lazio in quel periodo storico quello che hanno fatto loro non so io questo confesso la mia ignoranza se c'è uno studio specifico su di loro su su della banda che inizialmente nella quale inizialmente fece parte Casbarone però in quei quattro anni dal 1810 al 1814 si è scontrato di fatto con le autorità francesi per motivi politici non mi sembra insomma poi dopo poi dopo anche se fosse che è saputo muoversi tra le maglie del potere lo possiamo dedurre dal fatto che è stato protetto da qualcuno sì ti ripeto per forza ma per forza altrimenti non poteva rimanere in vita e non poteva essere liberato con l'unità d'Italia bisognerebbe capire quale è stato il suo padrino perché ci sono delle coincidenze troppo clamorose sulla figura di Casbarone perché è stato pronunetto da qualcuno però è pure vero che l'autorità pontificia e borbonica gli hanno dato una caccia spietata insomma io ho fatto sì sì no però c'era qualcuno però c'era qualcuno nel potere nelle maglie tu sai che poi molta gente che poi è divenuta italiana già già manovrava all'ombra nei tradimenti e nelle cose dopo quanto diventano italiani vennero fuori e si accasarono nel nuovo stato ti ripeto io a Sonnino se chiedo di far a diavolo che è stato lì è lavorato anche lì ne parlano come un delinquente assurdo mentre parli di Casbarone però per alcuni soprattutto chi lo sta facendo come come attrattiva turistica e lo posso anche accettare Casbarone visto in maniera più nobile purtroppo non possiamo farci nulla però ti ripeto lo stesso Sonnino c'è molta gente che non ne parla in maniera entusiasta e soprattutto anche le persone più semplici più umili che tu pensi che non hanno studiato molta storia invece ti rendi conto che ti parlo del Cardinale Antonello un uomo di uno spessore incredibile l'ultimo uomo di stato dello stato pontificio che è nato a Sonnino no possiamo aggiungere un altro un altro tassello insomma sulla per di come è stato visto al momento della sua scarcerazione quando che appunto con i suoi compagni liberati nel 1871 fu pubblicato un sonetto sulla su un giornale romano dove si scrisse nel secolo del moral progresso umano riconoscenti Italia a Gasparone e questo recentemente Paolo Mieli il giornalista Paolo Mieli ha scritto un articolo su questo partendo un po' esaminando questo sonetto dove dice che preente il Gasparone divenne diciamo popolare all'indomani dell'unità d'Italia in quanto figura che aveva combattuto il Papa quindi noi ci stiamo chiedendo se era un insorgente e invece appunto nel 1871 ci sono questi versi di questo sonetto nel secolo del moral progresso umano riconoscenti Italia a Gasparone e fu popolare in quel determinato periodo storico appunto dopo l'ingresso delle due quindi possiamo considerarlo un errore sorgimentale a questo punto visto che ecco perché ecco no ma pure oggi allora ecco perché viene sempre festeggiato che è considerato un eroe risorgimentale e quindi viene liberato nel 71 sì nel 71 viene liberato beh su questo sarebbe bisognerebbe leggere insomma tenere presente ecco più che leggere tenere presente anche questo articolo di Paolo Mieri sul perché Gasparone fu popolare all'indomani dell'unità d'Italia beh certo c'è da dire più che dell'unità d'Italia all'indomani della presa di Roma sì la presa diciamo il compimento dell'unità d'Italia il compimento dell'unità di sì ecco questo è un aspetto che adesso adesso forse alla fine di questa trasmissione mi sono date tante mi sono mi sto dando tante risposte va bene così ho capito tante cose perché perché di tante cose ho capito e allora a questo punto è normale che l'insorgente non lo era perché non ha combattuto di far jesi diciamo che era giacobino pure lui a sto punto si può dire che era un giacobino pure Gasparone beh diciamo che sì e poi comunque la virgoletta dice più che non lo so a questo insomma come ripeto va un po' approfondito tra virgolette parlo ci vorrebbe qualche altro studio ancora per definirlo insomma però vabbè se Mieli gli è da eroe sorgimentale è così beh per lo meno in quegli anni fu ritenuto tale insomma fu messo nella galleria in quella galleria lì fu messo ma infatti eppure ritratto in un palazzo istituzionale come detto prima romano sì e quindi e quindi i simboli sono fondamentali ed ecco perché allora ho capito questa grande attrattiva e quanta quanta cosa per Gasbarroni Luciano mi hai dato questa mi hai dato questa notizia finale che mi fa nel mio punto di vista mi fa chiudere il cerchio va bene ed ecco perché Massaroni invece aveva Massaroni era stato perseguitato fino a quando non fu abbattuto poi c'è da dire anche questo un episodio strano come mai Massaroni rimase al suo posto al comando del corpo franco a Monticelli Monte San Biaggio dove poi fu ucciso e Gasbarroni in quei giorni non c'era e infatti Pietro Masi dice che ebbe l'abilità di non essere di non farsi trovare a Monte San Biaggio era fuori però insomma bisogna come ripeto qualcosa in più di quello che vuoi cercare guarda che in questo libro in questo libro che poi ti farò avere c'è anche dei passaggi dell'autore dice che probabilmente quando ci stava la vera battaglia e guerriglia Gasbarone non c'era mai Bassaroni sì e va bene allora niente ti ringrazio Luciano sei stato come sempre prezioso aiuto e mi hai veramente illuminato fin dall'inizio ma la chicca finale mi è servita per capire altre cose che non avevo ancora compreso appieno ti ringrazio caldamente e sicuramente ti disturberemo per altre informazioni perché sei una fonte di sei un archivio storico soprattutto per quanto riguarda la nostra terra e il nostro regno e quindi ti disturberemo ancora per darci altre notizie grazie Luciano va bene grazie Claudio grazie a te e a tutti gli amici di Alta Terra di Lavoro un saluto grazie grazie a te